Sicuramente credo che ci sia veramente la possibilità che questa nazionale possa aprire un ciclo lungo e vittorioso. Parola di Luca Bazzucca Cantagalli. Il Cavriaghese, oggi allenatore della Volley Tricolore, è rimasto stupito soltanto a metà dall'impresa degli Azzurri che a Katowice, davanti a 12.000 sostenitori locali, hanno battuto per 3 a 1 la Polonia. Se l'anno scorso con la vittoria dell'Europeo abbiamo gridato tutti gli addetti al lavoro al miracolo, quest'anno devo dire che non ci possiamo stupire perché l'Italia, dopo la VNL persa, dopo si è ripresa veramente la grande, ha fatto un mondiale senza mai perdere una partita, sempre dimostrando di essere una grande squadra con un grande gruppo, un grande allenatore, tutti ragazzi molto giovani, con una carica, una lucidità da veterani, devo dire che sì, per quello mi hanno stupito, ma in realtà avevano già dimostrato in passato di essere una grande squadra. Per la nazionale maschile di pallavolo si tratta del quarto titolo mondiale, l'ultimo risaliva al 1998, corrispondente al terzo vinto di fila da quella che fu soprannominata Generazione di Fenomeni, nazionale che aveva tra le proprie colonne proprio Luca Cantagalli, per due volte campione iridato, nelle edizioni del 1990 a Rio de Janeiro e nel 1994 a Salonico. Gli azzurri sembrano oggi ripercorrere le orme di quell'esperienza che prese il via sotto la guida di Julio Velasco. Dopo le deludenti Olimpiadi di Tokyo di un anno fa è cominciato un processo di rinnovamento basato sul ricambio generazionale. È una nazionale che ha fatto innamorare, come è successo con la nostra, si vede che hanno nel gruppo la loro forza, sì, devo dire che comunque un ciclo l'hanno già aperto, ovviamente hanno di fronte delle squadre molto forti, ma non così giovani.